Un appello a tutte le forze moderate e di centrodestra per sostenere Federico Simoncelli al prossimo ballottaggio contro Biagio Maria Di Muro. Il PDL sanmaritano, dopo i risultati non esaltanti registrati durante le ultime amministrative, ammette di aver bisogno dell'appoggio centrista per avere la meglio sugli avversari e governare la città di Santa Maria Capoavetere. Per questo sia Paolo Romano, sia Massimo Grimaldi, sia lo stesso Simoncelli si sono detti aperti a qualsiasi dialogo con le altre forze politiche. Lo abbiamo sempre detto, lo abbiamo sostenuto dal primo momento che era necessario a Santa Maria, così come è avvenuto a Caserta dove il risultato è stato scontato al primo turno, a Capo dove il risultato è stato scontato al primo turno, a Sessaurunca dove è altrettanto scontato al primo turno, cioè ricostruire le alleanze che alla provincia e alle regioni sono state fondamentali per la vittoria del centrodestra, quindi è importante e fondamentale la partecipazione dell'Udc al ballottaggio. Noi ci auguriamo adesso, anche perché faremo un appello a tutte le forze che si riconoscono all'interno del centrodestra affinché tutti insieme possiamo dare la svolta definitiva a Santa Maria Capoavetere, ma mi sembra naturale che non essendo verificato il fatto che l'Udc si stesse con noi e io continuo a dire che è un'anomalia come un'anomalia anche a Napoli e questa anomalia adesso deve essere superata, se ciò non dovesse accadere, e io non credo che non avvenga, sicuramente penso che si avrebbero scenari politici completamente diversi poi anche nel territorio provinciale. Questa fase di ballottaggio dovrà caratterizzarci per cogliere e soprattutto per captare l'attenzione di coloro che non sono stati con noi in prima battuta, se i nostri programmi hanno degli spunti interessanti, se le cose che vogliamo fare sono comuni ad altre schieramenti, ad altre persone che hanno partecipato a questa competizione elettorale, noi siamo pronti al dialogo e siamo pronti a trovare un discorso costruttivo con chiunque voglia venire sulle nostre posizioni e siamo anche pronti ad accettare eventuali consigli e eventuali suggerimenti sul metodo di amministrazione.